Buca a lei! Dunque, amici ascoltatori, mi arrivate molte richieste di fax, di casi umani, di gente che non può vivere senza ascoltare questa canzone. Siccome il video non l'abbiamo fatto, ve la canto in questo momento live, è un brano in dialetto puzzulano, dal titolo Iport Utrerrote. Per quelli di voi che non parlano in puzzulano, non vi preoccupate, vi faccio la traduzione simultana. Vai via, sai che sto cantando? Io guido l'Apecar. L'Apecar, il furgone a tre ruote della piaggio. Mi alzo alle quattro del mattino. A volte dormo un po' in più, me la prendo comoda. E poi vado al mercato. E poi vado al mercato. E faccio il carico di cocomeri. L'altro ieri a Casori, a vicino Napoli. Ho forato un pneumatico. Perché la strada fa schifo. Perché il fondo stradale non è dei migliori. E si è abboccato il trisotto. E si è rimaltato l'Apecar. E sono caduti tutti i colloni. E sono caduti tutti i cocomeri. E mi sono caduti sotto. Io ho avuto molta, ma molta paura. E tutte le macchine che pensavano. E tutte le altre che transitavano per Casori in quel momento. E non ho fanno niente più colloni. Finivano sui miei cocomeri. E nessuno si fermava a me. E nessuno mi soccorreva. E qualcuno se ne approfittava. Io gridavo aiuto. Sono prigioniero nell'abitacolo dell'Apecar. Io c'è anche se mettevano i malunni di bagagliare. E magari nessuno vuovere. E ora sono bloccati in ospedale con le grucce. Ma se ti appacchi le s'ha fottuto di me. Se trovo l'autore del furto dei miei cocomeri. Ma faccio dare le bucce scorse di estment. Mi faccio restituire anche le bucce e i semi. I can't find that the signure. La gente è convinta di essere per bene. E apposso fottuto di me. Pubblicità.